Questo è quel video che si fa alla fine ma che in realtà si mette all'inizio dove si può finalmente fare una panoramica del corso e effettivamente far vedere dove trovare il materiale, cosa serve, come seguire il corso. Partiamo dal fatto che qualsiasi cosa dica, estensioni nomini, finestra vi faccio vedere, nome io dica, troverete tutti i link di queste cose sotto nella descrizione. Prima di farvi vedere cosa ci sia dentro vi spiego un secondino come funziona. La struttura che vedete qua a sinistra dove sono col mouse rappresenta quello che è il corso lungo di TypeScript che diciamo si va a comporre di quelli che dovrebbero essere 24 video nella playlist. Questo perché? Perché su YouTube non si possono modificare i video quindi se io andassi a registrare altri contenuti riguardanti TypeScript li inserirò in playlist e uno può continuare a seguire effettivamente la playlist e portare avanti il corso. Il corso lungo invece si fermerà a quelle che sono i primi 24-25 video della playlist ed è composto da questi concetti che a mio avviso sono gli elementi fondamentali che uno deve sapere per utilizzare in maniera abbastanza agile e capire soprattutto quello che succede nel mondo di TypeScript. Facciamo subito una panoramica veloce del corso abbiamo tre macro sezioni ad ogni file non corrisponde una singola lezione alcuni si sono una singola lezione altre sono lezioni che vanno a toccare un unico argomento quindi sono accorpate in un unico file. Abbiamo la parte introduttiva in cui andiamo a vedere tutti i singoli concetti che ruotano intorno a TypeScript che cos'è quando si usa soprattutto che cosa non è e quando uno deve usarlo e quando uno può anche non usarlo. Quindi saremo molto onesti e faremo una panoramica per vedere a che cosa ci serve TypeScript. Insomma odoreremo un pochino TypeScript nella parte 2 che ho chiamato con molta fantasia basi andremo un po' a vedere tutti quei mattoncini fondamentali che fanno parte dell'ecosistema di TypeScript e vedremo in che case si usano, qual è il loro scopo, a che cosa servono, come si costruiscono e soprattutto quando funzionano in maniera stupida e a cosa dobbiamo stare attenti. Dopodiché, dopo questa grande conoscenza che avremmo ottenuto, andremo nella parte che ho chiamato RealTS in cui grazie a questi piccoli blocchetti andremo ad affrontare argomenti un pochino più corposi come le classi estratti, in generale le classi, i generics, il narro, insomma argomenti un pochino più complessi per i quali abbiamo bisogno appunto di conoscere le varie. Il tutto, il tutto fatto simulando quello che, ecco perché c'è questo nome geniale, il tutto appunto fatto configurando quello che è un progetto di TypeScript base e facendolo funzionare come effettivamente funzionerebbe generalmente un progetto configurato in TypeScript. Che estensioni uso? Allora, per quello che riguarda questo corso, delle cose che vedrete, vabbè, c'è il tema che lo dico è Dracula, quindi questo è il tema, qualche volta vedrete appunto alcuni script che mi vengono suggeriti e questo è il mio amico Copilot. E altre cose incredibili, vabbè, userò Live Server un minuto, ma tanto non è la lezione, vi farò vedere come lo utilizzo, le mie iconcine sono Material Icon Team e poi abbiamo Pricker per quando vado a salvare lui formatti in maniera incredibile da solo. E poi vedrete, vabbè, questo serve a rendere un pochino più leggibili gli errori di TypeScript, ma per quello che noi andremo a vedere effettivamente in questo corso non sono errori così drastici, impossibili da necessitare questa estensione. Il resto sono estensioni che uso nel mio Day by Day. E ora passiamo a che cosa serva per seguire questo corsicino. Node. Node che cos'è? È un environment di JavaScript a runtime che lo trasforma effettivamente in un linguaggio di programmazione e ci permette di eseguire comandi come con ogni altro linguaggio di programmazione che si rispetti. In poche parole ci permette di lanciare i comandini dal terminale sul nostro computer utilizzando Node. Questo ci servirà per installare TypeScript appunto per lanciare volendo anche Live Server dal terminale, Node comunque, senza di lui, non si va da nessuna parte. Punto 2, a questo link che troverete sempre in descrizione trovate quello che è il videocorso completo con i singoli file, le singole lezioni, potete appunto andarlo a clonare oppure potete andarlo a scaricare. Se voleste clonarlo vi ricordo di andare a installare quello che è Git. Con Git potrete clonarlo e anche poi andarlo a forcarlo, portarlo sulla vostra repo, insomma, tutte quelle prassi che si fanno quando si vogliono clonare i progetti di altri developer. Lato personale, questa facciazza sono io, se volete, non so, seguirmi, scrivere un messaggio o qualsiasi cosa, mi trovate qua, io vi rispondo, sono gentile, vi prometto. Questo invece è il nostro canale in cui abbiamo tutta un'altra serie di tutorial anche sul videomaking perché insieme ad altre persone bravissime teniamo anche corsi e facciamo video anche di videomaking. Ci potete seguire, ci sono tutti altri corsi. E questo è appunto il nostro sito con quelli che sono gli altri corsi che ne offriamo, quelli che sono gratuiti e altri corsi che uno può seguire tramite noi. Sono tutti corsi professionali e soprattutto da qui potete ottenere dei coupon che vi permettono di acquistare i corsi su Demi. Ovviamente non posso comprare il mio corso da solo, però ottenete degli sconti che vi permettono di acquistarli a dei prezzi vantaggiosi. E chiuso questo, non dovrebbe rimanere più niente, quindi buon proseguimento per il resto del corso.